Basta con le fughe di responsabilità da parte del governo, l'incontro con i sindacati sulla questione degli ammortizzatori sociali ha rappresentato un avanzamento importante, inverosimile il dimezzamento dei costi che toccherebbe anche il personale proposto dalla Bridgestone per continuare a produrre a pari. Il prossimo tavolo ministeriale il 2 maggio, intanto si pensa ad iniziative da intraprendere, dare risposte ai cittadini sul bisogno di...